Ora, il problema era se fosse lei ad avere delle aspettative non veritiere o insomma se è stato lui a cambiare direzione all'ultimo, comunque lei sente le campane della chiesa, lei vede arrivare il suo uomo camminare lungo la navata della chiesa e promettere amore eterno ad un'altra. E tutto quello che la nostra Etta James poteva fare fu piangere, all I could do was cry. La chiesa è stata un'altra. 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 La chiesa è stata un'altra.